Le prime esperienze musicali di Enrico Ruggeri iniziano nel 1972, quando ancora quindicenne e studente del liceo classico Giovanni Berchè di Milano comincia a suonare in cantina con gli amici durante gli anni della contestazione studentesca. In quel periodo fonda il suo primo gruppo, gli Iosafat, che nel 1974, con l'ingresso di Silvio Capeccia, si trasformano in Champagne Molotov. Un nome che riemergerà spesso nella prima fase della carriera solista del cantautore. Nel 1977, dopo la fusione degli Champagne Molotov con il gruppo Trifoglio, nascono i Decibel. Con questo nuovo nome, il gruppo pubblica il primo album punk per la Spaghetti Records nel 1978, che si rivela un insuccesso con poche centinaia di copie vendute. Dopo il singolo Indigestione Disco e il ritorno di Silvio Capeccia alle tastiere, il gruppo si allontana dal punk e ottiene il successo partecipando al festival di Sanremo 1980 con il brano Contessa, musica di Fulvio Muzio, testo di Ruggeri. Concluso l'impulso del singolo Contessa, la primavera vede il rilascio dell'LP Vivo da Re, 40.000 copie vendute, il maggior successo del gruppo, riedito nel 1986 con il nome di Decibel, prodotto da Shell Shapiro. La title track partecipa al festival bar dello stesso anno, classificandosi al quarto posto, e subito dopo i Decibel iniziano un tour promozionale presso le numerose radio e tv libere dell'epoca. La tournée estiva prosegue con partecipazioni a manifestazioni come il Cantagiro e un disco per l'estate, culminando con un concerto allo stadio di San Siro di Milano davanti a 50.000 spettatori. Nel 1981, dopo la frattura tra i soci della Spaghetti Records, Crippa, Colombini e Shapiro, Enrico Ruggeri si schiera con Crippa, mentre gli altri membri dei Decibel scelgono una direzione diversa. Ruggeri inizia così la sua carriera solista sotto la produzione di Silvio Crippa, che diventerà il suo produttore storico, e avvia una lunga collaborazione con il chitarrista Luigi Schiavone. Il risultato è l'album Champagne Molotov per la casa discografica Sif, che però non raggiunge il successo atteso a causa di problemi legali con la Spaghetti Records e dei conflitti con i suoi ex compagni di band. Durante questo periodo, Ruggeri lavora anche come autore per artisti pop come Diana Est, scrivendo i testi dei suoi primi due singoli, Tenax, 1982, e Le Louvre, 1983. Quest'ultimo è diventato un grande successo nelle discoteche e un inno tra i giovani del 1983. Collabora inoltre con altri artisti pop, come Dan Harrow, Jock Hattel e Albert One. Studente di giurisprudenza, nel frattempo Ruggeri lavora come sopplente di italiano e latino presso la scuola media Tito Livio di Milano. Con l'album Polvere, 1983, e il singolo omonimo, Ruggeri ottiene un buon successo, raggiungendo il secondo posto al Festival Bar con la title track, che partecipa anche alla gara Canora Azzurro. Il brano Il mare d'inverno, scritto dopo una delusione sentimentale, è ispirato dalla città marchigiana di Marotta, dove Ruggeri ha trascorso le vacanze da adolescente, viene affidato a Loredana Bertè. Questo brano conferma Ruggeri come autore di talento e segna l'inizio della sua evoluzione verso il genere cantautorale, pur mantenendo le radici nel rock. Nel 1984 Enrico Ruggeri ritorna al Festival di Sanremo con il brano Nuovo Swing, che segna un cambio di stile verso l'influenza degli chansonnii francesi. Segue l'uscita dell'album Presente, che combina nuovi brani con esecuzioni dal vivo, inclusa una reinterpretazione di Vecchio Frac di Domenico Modugno, anch'essa in gara al Festival Bar 1984. Durante la stessa edizione di Sanremo, Ruggeri produce il gruppo emergente dei canton, scrivendo per loro Sonnambulismo, che si classifica al quarto posto tra i giovani e viene anche incisa in inglese. Nel 1985, dopo un tour e la pubblicazione di un singolo con Mimmo Locasciulli intitolato Confusi in un playback, Ruggeri vive un periodo di intensa ispirazione che lo porta a pubblicare tre album in 18 mesi, consolidandolo tra i cantautori italiani più apprezzati. Nello stesso anno partecipa con successo al Festival Bar 1985 con il singolo Poco Più Di Niente, che si classifica secondo. Gli album Tutto Scorre, che Ruggeri considera il suo lavoro più completo, L'EP Difesa Francese e Enrico Ovido, quest'ultimo il primo a entrare nella top 20, vengono pubblicati. Al Festival di Sanremo 1986, Ruggeri riceve il premio della critica per Rienne va plus, una canzone con ritmo ternario e accompagnamento di fisarmonica. Sebbene Ruggeri inizialmente avesse intenzione di presentare Dalla vita in giù, la canzone viene considerata troppo audace per il palco di Sanremo e quindi si opta per Rienne va plus. Durante questo periodo, Ruggeri diventa uno degli autori più richiesti da numerose interpreti femminili, tra cui Fiorella Mannoia, Loredana Bertè, Anna Oxa e Fiordaliso. Inoltre Enrico Fei ottiene il disco d'oro. Nel 1987 Enrico Ruggeri torna al Festival di Sanremo con Gianni Morandi e Umberto Tozzi in una collaborazione nata nell'ambito del progetto benefico della Nazionale Italiana Cantanti. Il loro brano, Si può dare di più, vince la manifestazione. Segue una tournée ambiziosa nei teatri italiani con l'orchestra filarmonica di Alessandria e la sua band di fiducia, testimoniata dal doppio live Vai Rouge che ottiene rapidamente il disco di platino. Nello stesso anno Ruggeri riceve il premio della critica a Sanremo per Quello che le donne non dicono, interpretata da Fiorella Mannoia e con musica di Luigi Schiavone che contribuirà a firmare molti dei successi più acclamati di Ruggeri. Nel 1988 Ruggeri pubblica l'album La parola ai testimoni che utilizza piattaforme digitali e strumenti elettronici ottenendo un discreto successo. L'anno successivo pubblica Contatti che include tre brani inediti e il funambolo, scritto insieme a Riccardo Cocciante, arrangiati dalla filarmonica di Mosca e una selezione di cover di cantautori italiani come Ivano Fossati, Lucio Dalla, Francesco Guccini, Sergio Endrigo, Lucio Battisti, Francesco De Gregori e gli Alunni del Sole. Enrico Ruggeri cambia nuovamente direzione musicale verso sonorità più rock e raggiunge i livelli di vendita più elevati della sua carriera, grazie ai singoli Ti avrò e Punk prima di te. Dopo un tour in Unione Sovietica pubblica nel 1990 l'album Il Falco e il Gabbiano che ottiene il doppio disco di platino. Il dualismo tra il falco e il gabbiano, simboli dell'album, rappresenta la sua duplice identità artistica che affronterà con orgoglio nonostante le critiche di chi non condivideva il suo approccio a due generi così diversi, il rock ispirato al punk e la canzone d'autore intimista di scuola francese. Nel 1991 Ruggeri pubblica l'album di maggior successo della sua carriera, Peter Pan, che vende 400.000 copie in pochi mesi e ottiene quattro dischi di platino. Il singolo Peter Pan raggiunge il secondo posto della classifica il 23 novembre, subito dopo Black or White di Michael Jackson e rimane nella top 10 fino al 18 gennaio. Il successo dell'album porta a un tour molto fortunato, con oltre 100 concerti. Nel 1992 pubblica anche Beneficio d'Inventario, la sua prima biografia ufficiale scritta dai giornalisti Donald Cantonetti e Lucio Mazzi. Nel 1993, al culmine del successo, Ruggeri vince per la seconda volta il Festival di Sanremo con il brano Rock Mistero, che lui stesso ritiene troppo di genere per garantire una vittoria certa. Segue l'album La Giostra della Memoria, uno dei primi a sperimentare la formula dell'album misto, combinando brani vecchi, inediti, interpretazioni di canzoni scritte per altri e esecuzioni live. Nello stesso anno partecipa all'Eurovision Song Contest con il brano Sole d'Europa, classificandosi al dettaglio posto, e scrive il testo della canzone La Canzone dei Colori, per il 33 lo zecchino d'oro. Nel 1994, Enrico Ruggeri pubblica l'album Oggetti Smarriti, che riflette nei testi e nelle atmosfere la conclusione del matrimonio con Laura Ferrato, sposata nel 1986. Questo album segna un'evoluzione musicale rispetto ai lavori precedenti. Nel 1996, le difficoltà nei rapporti con la casa discografica CGD, passata sotto il controllo della Warner, portano all'insuccesso del concept album Fango e Stelle. Lo stesso album viene presentato al Festival di Sanremo 1996, dove Ruggeri partecipa all'ultimo minuto, sostituendo Ornella Vanoni e si classifica al quindicesimo posto con L'amore è un attimo, musiche di Luigi Schiavone, testo di Ruggeri. Sempre nel 1996, Ruggeri celebra il traguardo dei 3 milioni di dischi venduti e suona all'Hammersmith di Londra e a San Paolo del Brasile davanti a 50.000 spettatori. A Sanremo incontra Andrea Mirò, al secolo Roberta Mogliotti, che diventerà la sua futura compagna e collaborerà con lui nella stesura dei pezzi e degli arrangiamenti. Andrea Mirò dirigerà anche l'orchestra nella edizione del Festival di Sanremo 2002, quando Ruggeri presenterà Primavera a Sarajevo. Nel 1997, con la nuova casa discografica PDU, Ruggeri pubblica Domani è un altro giorno, un album che apre al mercato estero e segna l'inizio della sua produzione in lingua spagnola. L'album diventa doppio disco di platino e il titolo spagnolo La Gente con Alma si ispira alla canzone La Gente di Cuore, cantata in italiano con Marco Masini. Nel 1999 esce L'Isola dei Tesori, composto principalmente da brani scritti in passato per altri artisti, alcuni dei quali includono la partecipazione degli stessi artisti. Come bonus track è presente la Chanson de Mimi, versione francese di La Poesia, scritta in risposta a una burla di scherzi a parte, dove Ruggeri era stato accusato di plagio. Nel 2000, Ruggeri firma con Sony BMG e pubblica L'uomo che vola, un album di stampo progressive che rappresenta il culmine del suo stile evoluto da oggetti smarriti. Il brano Gimondi e il cannibale viene utilizzato come sigla dalla Rai per l'83o Giro d'Italia. Nel 2001, Enrico Ruggeri pubblica il doppio live La Vie en Rouge, un album che ripercorre la sua carriera con una nuova veste folk, reinterpretando le sue canzoni in uno stile acustico. Nel 2002 partecipa al festival di Sanremo con la ballata Primavera Sarajevo, una canzone ispirata alla guerra in Bosnia e del Segovina. Andrea Mirò, che è sia autrice che direttrice d'orchestra, contribuisce al brano, che esplora sonorità delle regioni colpite dal conflitto. L'anno successivo Ruggeri torna a Sanremo con Nessuno tocchi caino, un brano contro la pena di morte scritto dopo l'adesione all'omonima associazione. La canzone vede Ruggeri duettare con Andrea Mirò e rappresenta un dialogo tra il boia e il condannato. Entrambe le canzoni si classificano rispettivamente al quinto e quarto posto. Dopo Sanremo pubblica Gli occhi del musicista, un album caratterizzato da sonorità folk. Nel 2004 Ruggeri reincide i brani punk del primo album dei Decibel in Punk prima di te, accompagnato da cover di brani punk anni 70. Le cover sono anche incluse in un CD intitolato Rock and Rouge, allegato alla rivista Rockstar. Sempre nel 2004 esce il suo primo doppio DVD dal vivo, Ulisse, per Sony Music. Nel 2005 pubblica Amore e guerra, seguito nel 2006 dalla raccolta Cuore, Muscoli e Cervello, un triplo cofanetto diviso tra materiale edito e inedito. La raccolta viene anche pubblicata in una versione compatta. Durante il Natale 2007 esce un disco di cover Natalizie, con Ruggeri che reinterpreta classici come White Christmas e Jingle Bells in chiave rock. Nel 2008 pubblica Rock Show, un disco di inediti in cui torna a rock e riflette sulle sue esperienze di cantautore dopo 30 anni di carriera. Il 30 gennaio 2009 esce All In, l'ultima follia di Enrico Ruggeri, un triplo CD di brani inediti, incluso Incontri Dimmi Quand'è, utilizzato come jingle pubblicitario dell'Amaro Averna. Nello stesso anno partecipa al brano Domani 2104 2009 di Mauro Pagani, il cui ricavato ed evoluto alle vittime del terremoto dell'Aquila. Inoltre canta nel brano Lungo il viaggio dell'album QPGA di Claudio Baglioni, conosciuto anche come In Viaggio. Ruggeri torna al Festival di Sanremo nel 2010 con La Notte delle Fate e pubblica l'album La Ruota, che include il brano in gara e segna l'inizio di un fortunato tour teatrale. Il primo aprile 2011 si riunisce per un'unica data con gli Champagne Molotov, tornando così a suonare insieme per un evento speciale. Nel gennaio 2012 Enrico Ruggeri pubblica Le canzoni ai testimoni, un CD in cui alcuni dei suoi successi vengono reinterpretati da artisti della scena indie alternativa italiana, come Bugo, Dente, Serpenti, Laura, Rezofonic, Marta sui tubi, Africa Unite, Busta e Linea 77. Ruggeri lascia gli artisti la libertà di rivisitare le canzoni nel loro stile personale e contribuisce con brevi strofe, dando piena autonomia agli altri cantanti. Il 7 maggio 2013 Ruggeri pubblica il concept album Frankenstein, ispirato al romanzo di Mary Shelley. Il disco esplora temi di emarginazione, solitudine e amore impossibile, riflettendo la rabbia e la tristezza del protagonista del romanzo. Il singolo Diverso dagli altri anticipa l'uscita dell'album. Nel 2014 Ruggeri collabora con il rapper e cantautore Dargen D'Amico, nella traccia E' Già, inclusa nell'album Vivere aiuta a non morire di D'Amico. A sua volta, D'Amico partecipa al nuovo album di Ruggeri, Frankenstein 2.0, un remake dell'album del 2013, con nuove sonorità e quattro brani aggiuntivi, tra cui il singolo L'Onda. Ruggeri chiarisce che Frankenstein 2.0 non è un semplice re-package del precedente album, ma ha una rivisitazione con un impianto sonoro differente. L'11 luglio 2014 Enrico Ruggeri pubblica il singolo In un paese normale, riarrangiato dal produttore Marco Barusso e accompagnato da un video ufficiale con la partecipazione del duo comico Ale e Franz. Il 28 settembre 2014 Ruggeri si esibisce a Milano insieme a Silvio Capeccia e Fulvio Muzio dei Decibel, interpretando sei brani del gruppo, tra cui la versione originale di Vivo da Re, con il testo in inglese. Tra il pubblico c'è anche Roberto Turatti, il batterista del primo LP dei Decibel. Il 14 febbraio 2015 Ruggeri è ospite dell'ultima serata del Festival di Sanremo, condotto da Carlo Conti, dove si esibisce con Tre Signori, un inedito dedicato a Giorgio Gaber, Enzo Iannacci e Giorgio Faletti, presente nel suo album Pezzi di vita uscito nello stesso anno. Il primo e l'8 aprile 2015 Ruggeri è special coach nel programma The Voice of Italy per il team di J-AX. Il 13 dicembre 2015 viene annunciata la sua partecipazione alla 66'a edizione del Festival di Sanremo nella sezione Campioni, con il brano Il primo amore non si scorda mai, prodotto da Marco Barusso. Ruggeri si aggiudica il quarto posto e il premio Lunezia per il miglior testo tra quelli dei big in gara. Nel marzo 2017 Enrico Ruggeri pubblica l'album Noblesse Oblige, segnando la riunione dei Decibel con Fulvio Muzio e Silvio Capeccia. Questo ritorno ai Decibel riporta il gruppo sotto i riflettori dopo anni di attività separate. Nel dicembre 2017 Ruggeri collabora con i The Price per l'interpretazione di On the Edge of Madness, una canzone caratterizzata da un sound potente e oscuro che mescola alternative rock, metal di matrice scandinava e new wave anni 80. Sempre nel 2017 Ruggeri canta Canone europeo insieme a Renato Carpaneto degli Anva, dimostrando la sua versatilità e la sua continua attitudine a collaborazioni con artisti di vari generi. Il 6 febbraio 2018 i Decibel ritornano al Festival di Sanremo dopo 38 anni con il brano Lettera dal Duca, dedicato a David Bowie. Questo ritorno al Festival rappresenta un momento significativo per il gruppo. Il 16 febbraio 2018 esce L'Anticristo, il secondo album dei Decibel dalla Reunion e il sesto del gruppo, consolidando il loro ritorno sulla scena musicale con nuove produzioni. Oltre alla sua carriera come musicista e interprete, Enrico Ruggeri ha intensificato il suo impegno come scrittore di romanzi, racconti e poesie e come conduttore televisivo. Nel 1989 ha pubblicato La giostra con forte editore, seguito da Perpudore nel 1994, Racconti e poesie nel 1997 e Piccoli mostri nel 2000. Nel 2011 ha dato alle stampe il suo primo romanzo Che giorno sarà e l'anno successivo non si può morire la notte di Natale. Nonostante un intervento chirurgico per diverticolite e volutasi in peritonite, avvenuto nell'ottobre 2014, ha pubblicato il terzo romanzo La brutta estate e ripreso i concerti. Nel 2006 Ruggeri debutta in televisione su Italia 1 con Il Bivio. Cosa sarebbe successo se? Programma che ha avuto una durata di oltre un anno e che è stato che è stato replicato nel 2007 e 2008. A novembre 2008 gli è stato affidato un nuovo programma intitolato Quello che le donne non dicono, un talk show dedicato all'universo femminile. Dal 1 luglio 2009 all'8 gennaio 2010 ha condotto Mistero su Italia 1 per due stagioni prima di cederne la conduzione a Rass de Gann. Nell'ambito dello stesso tema ha pubblicato nel 2010 con Candido Francica, Il Libro Alieni. Un mistero fra noi. A partire dal settembre 2010 è entrato nella giuria del talent show X Factor su Rai 2 dove, insieme a Fabrizio Palermo, ha presentato l'inedito Atlantide, interpretato per la prima volta dal duo Chimera nella semifinale del programma del 16 novembre 2010. Nel 2013 ha partecipato a Canzonissima all'interno di I migliori anni su Rai 1 e ha condotto i leggendari su Rai 5. Nello stesso anno e nella primavera 2014 è tornato su Italia 1 con Lucignolo, co-condotto con Marco Berri. Per quanto riguarda le sue posizioni politiche, spesso avvicinato alla destra per alcune critiche rivolte all'ambiente musicale politicizzato degli anni 70, Ruggeri ha chiarito «Mi considero principalmente un uomo libero e critico nei confronti del potere in generale. Credo che sia una delle funzioni di un artista essere critico e non schierarsi rigidamente, perché oggi definire qualcuno di destra o di sinistra è anacronistico. Le posizioni politiche possono variare a seconda delle circostanze. Ad esempio, posso avere un'opinione di sinistra sull'Iraq e di destra sull'indulto». Tuttavia, alle elezioni politiche del 1994, Ruggeri ha sostenuto esplicitamente il polo delle libertà, in particolare la lista pannella, che in quell'occasione era alleata con la coalizione di centrodestra. Il 6 luglio 2011 è stato uno dei principali firmatari di un appello promosso dalla SIA per sostenere l'approvazione della delibera Agom 668-2010, presieduta da Corrado Calabrò. Questa delibera mirava a combattere le violazioni del diritto d'autore e a proteggere gli interessi economici dell'industria discografica e del multimediale online, conferendo all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di bloccare, oscurare, censurare o rimuovere siti sospettati di violare copyright senza necessità di previa azione giudiziaria. Nel 2015 ha avviato su Radio 24 una trasmissione quotidiana intitolata «Il Falco e il Gabbiano» dalle 15 alle 16. Nello stesso anno ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Marotta, una località balneare in provincia di Pesaro e Urbino, a cui è legato da lungo tempo e che ha ispirato il brano «Il mare d'inverno», reso celebre da Loredana Bertè. Grande appassionato di calcio, Ruggeri è presidente e calciatore della Nazionale Cantanti, una squadra impegnata in attività di solidarietà di cui fa parte dal 1984.